Buongiorno, il nostro giro di cronaca oggi parte dalla Sicilia, allerta meteo rossa anche oggi con venti forti, pioggia e persino la neve. Scuole chiuse in diversi comuni dell'isola, andiamo subito in diretta dall'inviata Lucia Basso. Lucia dove ti trovi? Sì, buongiorno, mi trovo a Siracusa dove venti di burrasca fino a 100 km stanno flagellando la provincia non soltanto di Siracusa ma anche quella di Catania e di Ragusa. Pioggia incessante è quello che preoccupa in questo momento appunto a causa del ciclone del Mediterraneo l'esodazione dei torrenti e dei fiumi, tant'è che già alcune famiglie sono state costrette, si sentono mentre fulmini e tuoni alcune famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni perché si sono talmente ingrossati i corsi d'acqua come l'anapo e il mortellaro che alcune famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case. Noi qui ci troviamo all'interno di una scuola dove l'amministrazione comunale ha deciso di ospitare tutte le famiglie che hanno dovuto lasciare appunto le proprie abitazioni. Ecco ci vediamo, qui si sta allestendo, ci sono le prime famiglie che sono arrivate, si sta con l'assessore comunale si stanno preparando anche di rifocillare queste persone e le strade sono allagate, stanotte c'è stato anche un soccorso di due persone che rischiavano di essere inghiottite dal rimanere intrappolata all'interno del loro auto e alle 9.30 la prefetta di Siracusa Giussi Scaduto ha anche attivato il centro di controllo. Siamo con il sindaco Francesco Italia, com'è la situazione? La situazione ahimè non è delle migliori, siamo in giro da stanotte, ci sono vari problemi legati ovviamente ai rischi di esondazione del fiume Alamo e poi una serie di segnalazioni che arriva da tutta la città, in realtà da tutta la provincia, infatti siamo in linea col CCS Abbiamo allestito intanto qui alle politiche sociali una zona di accoglienza delle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni che saranno poi in attesa di essere ricollocate in strutture che abbiamo già allertato e di cui abbiamo la disponibilità Ricordiamo oggi allerta rossa, scuole chiuse, tutto chiuso, impianti sportive e parchi pubblici, anche domani sarà così, quali sono le previsioni? Non lo posso dire, dobbiamo aspettare il bollettino che fortunatamente è incoraggiante, nel senso che in teoria questa situazione dovrebbe durare altre 12 ore non di più, ma è chiaro che i danni in città e non solo saranno ingenti perché già continuano ad arrivare segnalazioni e più passa il tempo maggiori diventano le segnalazioni degli alberi caduti, agli impianti delle pubbliche affissioni Smottamenti, frane? Sì, muri crollati, cornicioni, sto ricevendo tantissimi messaggi anche da proprietari di casa e quindi insomma tutto quello che avviene in condizioni di clima così avverse Grazie sindaco, ricordiamo anche comunque come dicevo questo ciclone sta interessando la Sicilia orientale, sono stati cancellati i voli all'aeroporto Fontana Rossa di Catania e così come sono isolate le olie in montagna sull'Etna, sui nebrodi a quota più o meno 500 metri c'è la neve stanotte sono stati fatti anche degli interventi sull'Etna per salvare delle persone che erano rimaste bloccate nelle loro auto e per ora è tutto, vi restituisco la linea Grazie Lucia Abbas